una nuova serata del uni music live 2012 siete pronti per avere un break belli e brutti buoni tutti siamo con il recreation e nello specifico siamo con presentatevi cosa suonate chi siete io sono adriano voce basso della band a fianco a me c'è mirko perugini chitarra di là c'è roberto biscotti batterista gianluca caimmi e marco peppucci chitarra e gianluca e tastiera suonate cosa suonate perché allora facciamo heavy metal un genere un pochino di nicchia suoniamo tutti i pezzi nostri tutti i pezzi originali da poco abbiamo immesso una cover però principalmente ci basiamo su pezzi fatti da noi insomma stessi da noi quali sono i vostri progetti per il futuro dopo luni music cosa vi aspetta cosa vi aspettate allora dopo questa serata abbiamo un festival che è il roccheggiando a egidi spoleto è un evento abbastanza imminente prossime date abbiamo qualcosa nascosto che ancora non vogliamo rivelare no per il momento no per scaramanzia no diciamo così abbiamo un album già alle spalle un demo appena uscito contenente che contiene quattro tracce che tra le altre cose presenteremo anche questa sera niente tutto qua possiamo sapere il vostro cavallo di battaglia visto che sono tutte vostre creazioni oddio il nostro cavallo di battaglia probabilmente l'ultimo pezzo che proponiamo in genere durante la serata è apocalypse proprio perché è stato il nostro primo la nostra prima canzone che abbiamo che abbiamo scritto e di conseguenza ce lo portiamo dietro ce lo portiamo nel cuore ragazzi noi facciamo un in bocca al lupo e il recreation alla prossima dall'uni music 2012 al 110 caffè ragazzi noi facciamo un po' deluso di battaglia ragazzi attività ragazzi 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 Grazie.